il giudice conciliatore un ciccione dall'occhio murato e con l'altro mezzo spento sta ascoltando i querelanti con aria insoddisfatta emette ogni tanto una specie di grugnito come un anticipo sul suo giudizio e interrompe per far domande con una vocetta esile da bimbo è finita la causa tra il signor jolly e il signor petit pas riguardante un segno di confine spostato senza malizia da un contadino del signor petit pas al momento dell'aratura ad un campo adesso ha chiamato la causa tra ippolite lacour sacrestano e profumiere contro la signora selè cesarin l'uno vedova di antimisidor ippolite lacour ha 45 anni alto magro capelli lunghi sbarbato come un prete parla con voce molle stracicata e cantilenante la signora l'uno la signora l'uno dimostra una quarantina d'anni il suo fisico da lottatore rigonfia in ogni curva l'abito attillato i fianchi enormi sostengono sulla facciata un seno traboccante e sul retro scapole grosse come seni il collo largo sorregge una testa dei lineamenti marcati e la sua voce che non può dirsi profonda manda nota capace di far vibrare i vetri e i timpani è gravida con una panciona simile a una montagna il giudice inizia la causa ippolite lacour esponete il caso il querelante prende la parola ecco il signor giudice saranno nove mesi il giorno di san michele da quando la signora l'uno è venuta a trovarmi una sera dopo che avevo suonato l'angelus per espormi la sua situazione a proposito della sua sterilità giudice conciliatore siate più esplicito per favore ipolite vi illumino signor giudice lei voleva un figlio a tutti i costi e chiedeva la mia partecipazione promisi di accontentarla e lei mi promise cento franchi l'affare fu concordato in ogni particolare e venne realizzato ma oggi lei rifiuta di mantenere quanto ha promesso lo ripeto davanti a voi signor giudice io non riesco a capire dite che voleva un figlio e come che tipo di figlio per adottarlo forse no signor giudice ne voleva uno nuovo che volete dire con l'espressione uno nuovo intendo dire il figlio che adesso deve nascere insomma quello che abbiamo fatto insieme come se fossimo marito e moglie resto di sasso e che scopo poteva avere nel farvi questa proposta insolita lo scopo era non lo capì bene da principio e anch'io rimasi piuttosto come voi come un sasso e siccome prima di fare una cosetta voglio capire bene che cosa faccio voglio compenetrarmi nei suoi motivi e lei me li tirò fuori tutti suo marito quell'antim isidor che voi avete conosciuto bene come voi stesso e me era salito in cielo la settimana prima e tutta la sua fortuna sarebbe tornata alla famiglia di lui lei ci rimase di merda per via dei quattrini e allora andò a trovare un legislatore che la informò come e qualmente sull'affare della nascita entro i dieci mesi mi spiego se lei partoriva entro dieci mesi dalla estinzione del fuantim isidor il figlio era considerato legittimo e dava diritto all'eredità lei decise immediatamente di rispettare la legge e mi venne a cercare all'uscita della chiesa come avuto l'onore di dirvi dato che sono padre legittimo di otto figli tutti vivi il primo dei quali fa il droghiere a caen nel dipartimento di calvados ed è già unito con legittime nozze a victuare elisabeth rabù questi particolari non servono veniamo al fatto ci entro signor giudice io ci entro sempre allora lei mi fa se ci riesci ti do 100 franchi appena il medico mi fa il certificato di gravidanza mi misi nella condizione signor giudice di poterla soddisfare dopo sei settimane un paio di mesi venne a sapere con piacere che era tutto andato bene chiesi 100 franchi ma lei me li rifiutò e li chiesi più volte ma lei adesso non mi dette nemmeno un fico un fico secco voglio dire anzi mi disse che era un truffatore e un impotente per avere la prova del contrario basta guardarla che cosa avete da dire sareste sarin luno io dico signor giudice che quell'uomo lì è un imbroglione avete delle prove di quanto avete affermato che prova che prova non c'è una sola prova signor giudice che il bambino sia di lui no di lui non è proprio lo giuro sulla testa del mio povero marito di lui non è e allora di chi sarebbe e che lo so io lo so io di tutti persino di mio marito che è morto mentre ci siamo capiti e poi ecco ecco lì i testimoni sono tutti lì e sono sei fateli parlare fateli parlare e loro ve lo diranno che io io la madre non lo so e non posso saperlo calmatevi signor alluno calmatevi e rispondete a tono quali motivi avete per dubitare che il qui presente sia il padre della creatura che portate in grembo quali motivi ne ho cento duecento cinquecento diecimila un milione e anche di più dopo avergli fatta la proposta che sapete con la promessa dei cento franchi sono venuta a sapere che era becco ma così becco che più becco non si può la gente dice con rispetto parlando che neanche uno dei suoi otto figli li ha fatti lui neanche uno che bugiarda sono fandonie 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 ma il coraggio ma se sua moglie è andata con tutti nel quartiere con tutti dico ecco qua i miei testimoni signor giudice guardateli fateli parlare sono fandonie che faccia tosta e quei tre di pelo rosso chi li ha fatti te li hai fatti te niente fatti personali per favore altrimenti sono costretto a interrompere la seduta dunque siccome mi era avvenuto qualche sospetto sulle sue vere capacità ho pensato come dice il proverbio che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio e che si possono prendere due piccioni con una fava e così sono andata a raccontare tutta la storia a cesare le picce qui presente mio testimonio e lui mi ha detto per ste cose a vostra disposizione signora l'uno e mi ha dato una mano nel caso che i polit avesse fatto cilecca ma poi questa cosa che io volevo premunirmi è stata conosciuta anche dagli altri testimoni se soltanto avessi voluto più di cento sarebbero stati il signor giudice quel lungagnone che vedete lì quello si chiama lucas chandelier ma giurato che era un grande sbaglio dare cento franchi a ippolite lacour siamo giusti che aveva fatto lui forse niente forse poco mentre gli altri ci avevano dato dentro e gratis ippolite allora quella vipera non me li doveva promettere anche il parlo con la sentita e mi ha incoraggiato con uno sguardo verso il cielo insomma io ci ho fatto assegnamento signor giudice e quella lì che tira fuori i proverbi lo dovrebbe sapere che ogni promessa è un debito l'aluno fuori di sé cento franchi cento franchi cento franchi per quella faruccio imbroglione cento franchi indicando i sei testimoni loro non mi hanno chiesto nemmeno un centesimo eccoli sono sei e sono messi proprio bene tutti e sei fateli parlare signor giudice e loro vi risponderanno vedrete come vi risponderanno ippolite guardali pure te imbroglione guardali sono tutti meglio di te sono sei e se volevo erano cento duecento cinquecento finché ne volevo e tutti gratis capito imbroglione gratis ippolite al giudice ne poteva trovare anche centomila ma dopo di me sì centomila se solo volessi io comunque quel che dovevo fare l'ho fatto e i patti vanno rispettati e allora dimostramelo che è tuo dimostralo fanfarone ti sfido forse mio forse è di un altro il fatto è che la promessa dei cento franchi l'avete fatta a me anche il parroco ha sentito non dovevate andare da tanti altri dopo il risultato non cambia io ce l'avrei fatta da solo non è vero buono a nulla chiedetelo ai miei testimoni signor giudice e loro vi risponderanno il giudice di pace chiama i testimoni a discarico sono sei rossi in faccia con le braccia penzoloni e piene di timori lucas chandelier avete motivo di presumere di essere il padre della prole che la signora l'uno porta attualmente in grembo sì signore salastain pierre siduan avete motivo di presumere di essere padre della prole che la signora l'uno porta attualmente in grembo sì signore gli altri quattro testimoni rendono identica deposizione giudice conciliatore dopo un attimo di raccoglimento visto che ipolit lacour a motivo di credersi padre del figlio desiderato della signora l'uno e che anche i nominati lucas chandelier salastain pierre siduan eccetera 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 hanno analoghi motivi per pretendere la stessa paternità e visto che la signora selestense sarin l'uno vedova del fuantim misidor aveva primieramente invocato ed esplicitamente richiesta l'assistenza la collaborazione e l'opera del già detto ipolit lacour mediante l'innennità convenuta e accettata di franchi 100 visto tuttavia che se si può ritenere completa la buona fede del nominato lacour è possibile contestare il suo stretto diritto a offrirsi per la prestazione sopra descritta poiché il querelante è coniugato e vincolato per legge canonica a rimanere fedele alla sposa legittima visto inoltre che eccetera eccetera condanna la signora selestse sarin l'uno a pagare franchi 25 a titolo di risalcimento danni e interessi al nominato ipolit lacour per perdita di tempo e seduzione insolita non è un'unico Grazie.